Bella a tutti ragazzi, io sono Massacratore24 e siamo qui con il nuovo personaggio che fa schifo. Me l'hanno cambiato, me l'hanno cambiato, però noi non ci arrendiamo e indichiamo senza permesso Nutella. Tu, io dico, come ti permetti a indicare, scusa, ti devo toccare lo stomaco, vediamo se hai l'appendicite, quasi, aspetta, perché mi guardi così? Aspetta, forse tu non hai capito, che pure io, eh, bene, io mi prendo la mia bella moto. Fatta esiste, mamma mia, la Massacratore24, Nutella ancora sta, caro amico. Nutella, quando vuoi mi puoi anche seguire, ok? Oh, mamma mia, ho provato a fare il backflip, mamma mia, sì. Ma guardate il mio, ha fatto la capriola, capriola, 100 euro, per me, ragazzi. No, se ci riprova, non ce la fa. No, cioè, l'avete visto? È un serial killer. È un serial killer, serial killer. Eh, allora. Che ti guardi, tu, eh? Hai problemi... Hai problemi se ti indico? Guardiamo così, via. Niente, non ti preoccupare, sono abituato che mi mettete la testa in mezzo alla pancia. Non per questo sono invisibile! Sono ancora vivo, mamma mia. Signor Nutella. Signor Nutella, lei non è più un cittadino di Los Santos. Lei ha infranto le regole. Si cammina così per strada. Risponda! Io... Però tu non mi uccidere. Ma la... Quella è una cittadina sballata! Non voglio la macchina! Voglio la mia moto alla rincorsa! Levati! Lei deve morire! Non può fare questo! La ralìì! Impenniamo! Con la nostra bella moto! Speriamo di riuscirla a beccare! Eccola! No! Eccola! No, non è questa! No, non è questa! No, non è questa! Attenzione! Mamma mia, è velocissima! Eccola! Lei! Lui, anzi... Mori! Mi voleva anche uccidere... Un altro cittadino! Che andiamo a beccare! No! Cioè, ha fatto una rampa su di me! Cose improbabili succedono a GTA 5 o all'anno! Lo so! Vai! Attenzione! Non vedo l'ora! Non vedo l'ora! Sì! Sì! Non te la va a sbattere come un mongoloide! Però pure io! Ha fatto capire la sua schiena! Mamma mia! Peggio di una Blei Blade! Quella si sta a far selfie! Fatto pure col sangue il selfie! Dai! È bello! Mi chiama Francesco Totti, quella! Selfie! Stupendo! Sotto la curva! Che va a portare la Roma in pareggio! 2-2 contro la Lazio! Partita epica! Soprattutto per Franceschino! Guarda la mia bella moto! Anzi, raga! Non vi ho per niente parlato di questa bella moto! Proviamo a fare un doppio backflip! Cioè, non lo so! Proviamo il backflip e muoio! Della! Soccorsi! Soccorsi! Nutella! Aiuto! Lei vende marijuana? Vende erba buona? Me ne può dare un pochetto? Dove si trova? Indicamelo! Almeno ci vado! Ok! Dimmi la strada che ci vado! Aspetta eh! Prendo la mia bella moto! Quello devo prendere da solo! Quello devo prendere da solo! Scusa! Che pizza! Boom! 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 Non c'è! Nenica a me! Eh mamma mia! E grande salto di Malsa Creatore! la moto lo schiaccia ma lui è invincibile no, troppo forte lo voglio vedere mi serve una piccola mano no, mi serve una manina la mia moto si è leggermente incastrata e io non so come proseguire mi puoi dare una mano mi puoi ok, osserviamo no salta pure lui e guardate le moto come stanno messe tu non sei un meccanico quindi scendi dal moto e non uccidere guarda questa che fuma la canna eccola l'erba buona ecco l'erba buona erba buona lei fuma? si proprio io fumo erba buona però non ce la do perchè no? e dico ci nutella? la capriola di nutella si proprio da solo vabbè non mi devi uccidere capito? ok dai andiamo dai andiamo no si che paghi mi dai un passaggio? dai si sono arrivati i pompieri e l'incendio l'ho spento io con il mio soffio guarda e corrono ma non vedete che non c'è l'incendio tu e le tue ruote bucate sono bellissime sono bellissime eeeh i tisani no se la ripagli hai detto bene che bella li mettiamo una bella suppostina attenzione la grande sfida massacratore a piedi aspetta che si è traviato per terra si doveva odorare l'accellina però aspettami non è fallido così che devo fare eh io forse ho capito proprio male che pezza mamma mia però tu bari troppo tu bari troppo tu bari troppo tu bari troppo non vale così non vale non vale non vale lui è con la moto io sono a piedo a piedo non a piedi a piedo a piedo instagram con il nome di massacratore 24 bella raga non vale non vale non vale Grazie a tutti.